E' questa l'ultima azione della sua carriera in B8, e adesso tiro Jordan! Jordan! Michael! Jeffrey! Jordan! 11 febbraio 1993 siamo fuori dal palace la casa dei detroit pistons una delle squadre che ha scritto la storia dell'nba dennis rodman uno dei giocatori di quel team si trova nel parcheggio all'interno della sua auto quel giovane timido introverso sì avete capito bene timido introverso ha un fucile in mano e se lo sta puntando sotto il mento il mondo gli sta crollando addosso tutto quello in cui aveva creduto sta svanendo è davvero la fine o il punto di partenza per un nuovo inizio per scoprirlo bisogna partire dal principio provando a conoscere una delle personalità più affascinanti se non la più affascinante che sia mai esistita nel mondo dello sport questa è la storia di dennis the world rodman dennis keith rodman nasce il 13 maggio 1961 a trenton in new jersey da shirley e philander rodman la sua vita è complicata fin da subito perché all'età di tre anni il padre lascia la famiglia non vuole saperne di crescere il piccolo dennis e le due figlie più grandi debra e kim shirley decide di spostarsi a dallas ad oakliff uno dei quartieri più poveri della città dennis cresce in quel luogo insieme a tre donne è un bambino timido non parla molto per andare a scuola devono trascinarlo sull'autobus vuole stare sempre con la madre che però svolgendo tre lavori per mantenere la famiglia non riesce a dargli le giuste attenzioni sente la mancanza di una figura paterna vive in simbiosi con le due sorelle che diventano il suo punto di riferimento ovunque vadano lo portano con loro debra e kim si divertono con lui a volte lo vessano anche da donna per gioco crescendo in quell'ambiente diventa sempre più strano è diverso da tutti gli altri e si vede il suo aspetto fisico non lo aiuta non è tanto alto è magro e all'orecchia sventola a scuola infatti le cose vanno male viene bullizzato e lui non contrattacca mai la madre per quel problema è addirittura costretta a fargli cambiare istituto ma dennis non riesce comunque a farsi degli amici prova ad avvicinarsi al basket ma nei playground è quasi sempre uno spettatore e viene tagliato dalla squadra della scuola prova a giocare a football ma finisce nello stesso modo non trova il suo posto in casa cresce all'ombra delle due sorelle che sono alte e forti tanto che entrambe giocano a basket e riescono ad ottenere una borsa di studio per il college debra in futuro militerà nel campionato italiano lui non è mai al centro dell'attenzione si fa notare solo per una cosa quando gioca a flipper alla sala giochi si muove in continuazione non riesce mai a stare fermo alcuni ragazzi lo notano e lo soprannominano the worm il verme si porterà dietro quel nickname per tutta la vita è un momento complicato per lui non capisce qual è la sua direzione si diploma con difficoltà dovendo frequentare i corsi estivi fatica a farsi accettare e cresce con un complesso di inferiorità terminata la high school si ritrova a casa e senza lavoro trova un impiego all'aeroporto come ha detto le pulizie e lì in uno dei negozi ruba 50 orologi le telecamere lo riprendono e lui finisce nella prigione aeroportuale schedato e spaventato piange disperatamente la madre decide di lasciarlo lì una notte per insegnargli una lezione viene denunciato ma subito dopo le accuse vengono ritirate il motivo dennis non ha provato a vendere gli orologi bensì li ha regalati alle persone che conosce vuole piacere alla gente non ho guadagnato un dollaro non ci ho nemmeno provato li ho semplicemente regalati perché cercavo di farmi accettare ricorda lui stesso prova a farsi piacere dalle persone in tutti i modi a volte anche sbagliando sarà un'altra caratteristica che lo contraddistinguerà torna a casa ma in difficoltà non riesce a tenersi un lavoro e passa la maggior parte del tempo senza fare niente la madre gli dà un ultimatum o si trova un'occupazione stabile oppure lì con lei non può stare dennis così viene cacciato di casa finisce a dormire sul divano di alcuni conoscenti e poi per strada al parco dietro al supermercato di giorno gira per le vie della città a cercare cibo ha quasi 20 anni e piano piano inizia ad accettare che quella sarà la sua vita si sente abbandonato ciò che è accaduto compromette il rapporto con la madre che sarà sempre tempestoso e problematico questa situazione dona al giovane due cose una personalità unica che gli darà diversi problemi e una spinta un'energia che difficilmente si vedrà nello sport professionistico la realtà è che è avvenuto qualcosa che si vede raramente quando ha terminato l'high school the warm era alto 175 centimetri mentre un anno e mezzo dopo arriva a 203 ne ha guadagnati 27 quella crescita inaspettata lo riavicina al basket sport che ha sempre guardato con interesse vista l'influenza delle sorelle passa ore e ore con la palla in mano è in quel modo che si salva dal diventare uno spacciatore o ancora peggio un drogato ora può giocare al campetto e grazie alla sua altezza diventa dominante potevo fare cose sul campo che prima non potevo nemmeno immaginare mi sembrava di avere un nuovo corpo la madre dopo qualche mese lo riamette in casa mentre gioca nella palestra più vicina viene notato da lorita westbrook un'amica della sorella lo convince a fare un provino per il coke county junior college a gainsville lì dopo 15 minuti gli offrono una borsa di studio quello che hanno visto impressionante contando che ha 20 anni e che fino a quel giorno non ha mai giocato un'intera stagione in una vera squadra disputa 16 partite con una media di 17 punti e 13 rimbalzi ma dopo un semestre decide di lasciare la scuola non fa per lui torna a dallas e la madre dopo poco lo caccia nuovamente di casa torna vagabondare per strada senza fissa dimora dopodiché la fortuna fa il soccorso in quelle 16 gare disputate al community college un certo non risman assistente allenatore nella south eastern oklahoma university l'ha notato la prima volta che l'ho visto era un diamante grezzo non ho avuto un dubbio risman decide di chiamare la madre di dennis vuole parlare con il ragazzo shirley permette al figlio di tornare a casa alla sola condizione che parli con quell'uomo lui però non lo fa si chiude in camera e non vuole uscire l'assistente allenatore non demorde aspetta fuori dalla porta due ore convincendolo a venire fuori gli fa capire che qualcuno sta pensando a lui per la prima volta non lo porta subito a durent dove si trova al college e gli mostra la palestra gli chiede se vuole giocare lì dennis capisce che quella è una delle sue ultime occasioni per non tornare in strada accetta lascia dallas e si fa una promessa non tornerà mai più indietro la nuova vita a durent non è semplice è una cittadina in texas popolata per lo più da agricoltori bianchi gli afroamericani non sono ben visti l'odio razziale è forte si percepisce quando gli abitanti incontrano quel nero di 203 centimetri per strada lo insultano ma lui non risponde reprime quel desiderio di contrattaccare perché il suo obiettivo è quello di farsi accettare di farsi voler bene da qualcuno ci prova in tutti i modi e la chiave è ovviamente il basket già perché sul campo da gioco è qualcosa di unico di mai visto prima mostra delle qualità atletiche incredibili il coach lo mette subito in campo alla prima partita dennis domina segna 24 punti e prende 19 rimbalzi in una gara difficile a fine partita negli spogliatoi va da risman lo guarda in faccia gli dice spero davvero di non averti deluso questa sera la paura di dare dispiacere a una persona che ha creduto in lui è enorme sul parquet da tutto se stesso non si risparmia mai sembra che ami il gioco e ogni volta che scende in campo lo fa con entusiasmo con una gioia mai vista prima quando segna esulta muovendo il pugno per aria in quel modo mostra tutta la sua energia e il pubblico che lo va a vedere impazzisce quel gesto rimarrà un suo segno distintivo nel tempo in realtà dennis non ha nessuna abilità in particolare gioca con talento puro e grezzo anche perché nessuno gli ha insegnato niente di basket nella sua vita ce n'è stato poco inoltre ha una caratteristica eccezionale riesce sempre a leggere la traiettoria del pallone e questo gli permette di andare a rimbalzo come nessun altro a questa capacità aggiunge una cattiveria agonistica fuori dal comune è un giocatore eccezionale e queste qualità non sono il frutto dell'allenamento e lui lo sa vorrei dire che mi esercitavo tutti i giorni a prendere i rimbalzi ma non è così andavo in campo semplicemente per surclassare gli avversari per essere il migliore grazie al basket viene accettato dalla comunità e lì incontra qualcuno durante un camp estivo conosce Brian Rich un ragazzino di 13 anni che si trova in quel posto perché ha accidentalmente ucciso il suo migliore amico con un fucile e deve riabilitarsi nonostante sette anni di differenza diventano amici Dennis non capisce come può piacere a quel bambino Brian poco dopo lo invita a casa sua la madre pet appena lo vede per poco non sviene il figlio non le aveva detto che si trattava di un ventenne nero di 203 centimetri quello che accade ha dell'assurdo Rodman si ferma addirittura a dormire lì per terra di fianco al suo nuovo amico non è una situazione normale i genitori ovviamente si fanno delle domande la verità è che entrambi si sentono soli e bisognosi di avere qualcuno al proprio fianco i due diventano inseparabili tanto che Dennis porta Brian con sé ad ogni partita allenamento lo fa diventare l'addetto ai palloni giocano insieme e spesso si vestono nello stesso modo è un punto di svolta per Rodman perché per la prima volta sente che qualcuno gli vuole bene che qualcuno ha piacere a passare del tempo con lui dopo poco non dorme più nella sua stanza del college ma a casa dei ricci anche James il padre del bambino lo accetta e lo tratta come uno dei suoi figli hanno una fattoria e Dennis dà una mano mungendo le mucche arando i campi a poco a poco diventa parte della famiglia tutto ciò va oltre la comprensione un afro americano che si inserisce in un nucleo familiare di agricoltori bianchi con pregiudizi razzisti che spesso portano anche a qualche problema il litigio difficoltà a parte Rodman chiede perfino di essere adottato ma la madre naturale Shirley si oppone secondo il suo parere suo figlio sta riuscendo a trovare la sua strada proprio perché lei ha deciso di cacciarlo di casa proprio perché è stata dura con lui Dennis però ora prova del risentimento non perdona il trattamento che ha ricevuto in passato quel rancore aumenta perché la madre vuole tornare ora che sta andando tutto bene ma dov'era nel momento del bisogno questo sentimento lo accompagnerà per tutta la vita in effetti le cose stanno prendendo una piega inaspettata in campo the worm è fenomenale con i savage la squadra del college in tre anni mantiene una media di 25 punti e 15 rimbalzi vince per due anni la classifica rimbalzi e viene selezionato per tre volte come uno dei migliori prospetti della naia a livello nazionale lui non sa nemmeno che significhi sa solo che il basket gli ha dato la possibilità di avere un'identità di avere fiducia in se stesso in più gli ha permesso di poter dire per la prima volta nella sua vita che è più bravo di altre persone a fare qualcosa Dennis in quei tre anni ha messo in mostra il suo potenziale ma i dubbi sono sul futuro non acquisito notorietà nazionale perché la sua età è avanzata e un ragazzo con un passato simile potrebbe creare dei problemi lui però è cresciuto con i piedi per terra grazie a james rich mi ha insegnato a lavorare per ottenere ciò che desidero e non per quello che vogliono gli altri a non dimenticare da dove arrivo questo fa sì che resti affamato qualcuno si chiede se possa puntare alla nba lui partecipa a tutte le competizioni della post season in cui può mettersi in mostra e gioca come fosse impossessato gioca più duro degli altri gioca senza paura disputa i provini con un'intensità incredibile tutti pensano possa trattarsi di una scommessa ma non sono convinti una sola persona a cui viene dato poco credito però vede qualcosa in lui le cose stanno per cambiare nuovamente i dubbi sul futuro di the worm sono molti la sua vita non si sa che piega possa prendere non si sa se riuscirà a strappare un contratto in nba will robinson però è sicuro prende un rimbalzo la passa fa tutto il campo e schiaccia in testa gli avversari è un giocatore unico will è uno scout 80enne e vista all'età qualcuno pensa si sia rimbambito ma convince il team per cui lavora a puntare su quel ragazzo nel draft del 1986 ecco l'occasione della vita al secondo turno alla 27esima chiamata i detroit pistons scelgono dennis rodman nessuno sa chi sia sembra solo un ragazzo magro che arriva da oklahoma nessuno si aspetta nulla da lui non sono a conoscenza però di quanta fame ha quanto desideri non tornare mai più da dove venuto è determinato a rimanere il primo giorno di training camp lo dimostra tanto che il giornalista va a chiedergli chi è e lui risponde un nessuno che arriva dal nulla entra in nba a 26 anni quando firma il primo contratto gli viene un attacco di panico a detroit trova l'ambiente perfetto si tratta di un team che da qualche anno sta cercando di costruire una squadra per vincere hanno un roster esperto e con carattere i due leader sono bill lambier uno dei giocatori più odiati nella storia della lega conosciuto per il suo trash talking e le scorrettezze in campo e l'all star isea thomas uno dei playmaker più forti di sempre i due prendono dennis sotto la loro ala perché si fa voler bene da tutti è una persona dolce innocente un animo gentile che affascina i compagni non sembra mai essere a suo agio introverso quieto ed estremamente timido quando la squadra lo porta in un night club lui ordina il latte sembra viva l'adolescenza che non ha mai potuto avere non conoscevo altro che giocare a basket volevo solo rendere le persone felici in più si trova nel posto giusto al momento giusto in michigan conosce un'altra delle persone più importanti della sua vita l'allenatore chuck daily il coach grande gestore di uomini tanto che guiderà il dream team del 1992 capisce subito che quel ragazzo ha bisogno di attenzioni diventa una figura paterna per lui tanto che lo invita a casa sua natale al giorno del ringraziamento lo incoraggia ad essere se stesso ha capito che è uno spirito libero non va plasmato sa che l'unica cosa che sa fare è giocare duro come se ne andasse della sua vita dennis si sarebbe schiantato contro un muro se chuck glielo avesse chiesto afferma il compagno sally il coach lo aiuta perché sa di aver trovato una persona unica sia fuori dal campo sia sul parquet già perché lì fin da subito si capisce che è un genio della palla canestro ha una capacità naturale di predire la direzione del pallone una volta che colpisce il ferro legge il gioco come solo i migliori sanno fare e il basket si sa un sistema di letture in più è diverso da tutti gli altri giocatori perché quando va in campo a lui di segnare non frega nulla sa che non riceverà la palla e quindi fa quello che non tutti sono disposti a fare a prendere ogni rimbalzo a bloccare tiri a correre da una parte all'altra del campo per difendere mette tutta la sua energia che sembra infinita se c'è una palla irrecuperabile lui si butta comunque da tutto se stesso senza paura andava a rimbalzo con una ferocia che non aveva senso giocava a basket come se stesse cercando di scappare da qualcosa non voleva in alcun modo tornare indietro ricorda un giornalista quando gli riesce una giocata esulta sempre alzando il pugno per caricarsi i tifosi iniziano ad apprezzarlo e il palazzetto ogni volta che vede il suo impegno impazzisce affronta le partite in quel modo perché vuole farsi accettare e voler bene da tutti diventa il giocatore più conosciuto e amato addirittura più della star isea tanto che ispirerà la nascita del personaggio anamichi sakuraji nel famosissimo manga slam dunk non era mai successo che si parlasse così tanto di qualcuno che non segna acquista inoltre consapevolezza perché i pistons non sono una squadra qualsiasi si tratta del team più odiato di sempre che verrà riconosciuto come i bad boys un gruppo che vuole distruggerti fisicamente e mentalmente dennis si cala in quella mentalità e la fa sua per la prima volta invece di essere lui il bullizzato ha la possibilità di essere il cattivo ama la cultura di quella franchigia inizia a piacergli l'idea di avere tutto il mondo contro nel primo anno da rookie con la canotta numero 10 indosso entra nelle rotazioni giocando circa 15 minuti a partita i pistons sono forti per davvero arrivano alle finali di conference della stagione 86 87 dove incontrano i boston celtics di larry bird è una serie brutale i bad boys perdono le prime due fuori casa dennis in gara 2 quando vai liberi non tocca neanche il ferro la pressione è molta ma una volta tornati in michigan le cose cambiano tutto il team decide che può fare solo una cosa per contrastare gli avversari picchiare duro giocare al limite provano a contenere bird in tutti i modi lambier fa un fallo che rimarrà negli annali vincono due partite e riportano la serie in parità in gara 5 a pochi secondi dalla fine sono 107 a 106 e stanno per vincere rodman è in campo e con una stoppata decisiva sembra sigillare il risultato hanno praticamente vinto devono solo tenere l'ultimo possesso bird però non è un giocatore qualsiasi ruba palla e fa l'assist della vittoria 107 a 108 è una sconfitta bruciante che segna la serie persa a gara 7 in verità dennis ha faticato perché ha dovuto marcare l'herry che l'ha portato a scuola più volte è forse la prima volta che un bianco lo surclassa sul campo nel post partita gli chiedono cosa ne pensa dell'avversario e lui risponde se bird fosse nero sarebbe solo un altro buon giocatore nulla di più isea dice di essere d'accordo con le sue parole qualcuno ipotizza per proteggerlo da lì parte l'agonia mediatica che dura diverse settimane per il team è un punto di svolta importantissimo i giocatori decidono che d'ora in poi saranno loro contro tutti o sei a bordo o sei fuori in tanti iniziano ad odiarli e loro scelgono di utilizzare quel sentimento a loro vantaggio iniziano a giocare in maniera ancora più fisica con falli sempre più duri gli avversari hanno paura ad affrontarli è da quel momento che decidono di incarnare la figura dei cattivi hanno trovato la loro identità è qui che parte la leggenda dei bad boys nella stagione 87-88 Dennis trova più spazio si capisce che è lui il pezzo mancante per vincere a metà stagione il compagno Dante le si fa male ed è warm a parte titolare in 24 partite con lui in campo ne vincono 20 successivamente esce sempre dalla panchina ma gioca più di 26 minuti con bene 11.6 punti e 8.7 rimbalzi di media i pistons ai playoff dimostrano che adesso sono lì per vincere perché asfaltano gli emergenti bulls di un certo Michael Jordan con cattiveria e fisicità oltre al limite del regolamento e poi ritrovano i Celtics hanno voglia di rivincita dopo l'anno passato dopo 4 partite sono 2 a 2 gara 5 si gioca in trasferta al garden Dennis segna 10 punti con una grande prestazione in difesa su Larry Bird qualcosa è cambiato e infatti chiudono la serie 4 a 2 vincendo a Detroit gara 6 sono riusciti a battere gli odiati rivali e ora sono alle finals ci sono i lakers di Magic Johnson e Karim Abdul-Jabbar una delle squadre più forti di sempre è una serie bellissima che vede i bad boys arrivare ad un passo dalla vittoria un fallo dubbio dovuto forse alla fama di Lambir sul 102 a 101 li condanna perdono gara 6 che tra l'altro passerà la storia per la performance di Zea Thomas con un infortunio alla caviglia alla settima perdono 105 a 108 Rodman segna 15 punti giocando 30 minuti ma non basta è un'altra sconfitta dolorosa ma quel gruppo è unico compatto e unito come una vera famiglia sanno che qualsiasi screzio ci possa essere fuori dal campo quando si scende sul parquet sono uniti come non mai la stagione successiva Dennis come già si era capito ai playoff diventa fondamentale è lui che dà equilibrio grazie alla sua energia diventa il sesto uomo a tutti gli effetti ricoprendo per lo più il ruolo di ala piccola anche se in realtà può marcare chiunque Chuck vuole The Worm nel quarto periodo per la sua difesa e infatti guadagna minuti sul titolare d'Antley che in una partita rifiuta la sostituzione il coach e lo staff decidono di mandare via il giocatore scontento e lo scambiano per Mark Aguirre Rodman rimane a fare il sesto uomo ma nei momenti chiave è in campo perché è pronto a sacrificare il suo corpo è pronto a fare qualsiasi cosa per la sua squadra ama far contenti tutti i bad boys con quella mossa hanno trovato la soluzione accedono ai playoff con il miglior record e lì non li ferma nessuno battono i Celtics 3 a 0 i boost di Jordan 4 a 2 in una serie fisica dove Rodman a rimbalzo è dominante da gara 2 prende più di 10 rimbalzi con ben 18 in una gara 4 decisiva oltre a essere una pedina fondamentale nella messa in atto delle famose Jordan's Rules vanno alle finals e lì contro i Lakers privi dell'infortunato Magic il verme ha niente al pericolo principale James Worthy che ricorda Dennis è il miglior atleta contro cui abbia mai giocato e la cosa peggiore è che sa come entrarti in testa 4 a 0 senza storia i Pistons salgono sul tetto del mondo ce l'hanno fatta contro tutto e contro tutti la gioia per quel ragazzino che qualche anno prima viveva per strada senza sapere cosa fare della sua vita è immensa il suo sorriso è sterna gioia pura sa di avercela fatta partendo dal nulla e questo vale ancora di più per tre giorni indossa la canotta numero 10 inzuppata di champagne quello per Dennis è il momento più importante della sua vita e tutto questo sembra non finire qua deve ancora accadere qualcosa qualcosa che lo cambierà per sempre nella stagione 1989-1990 i Bad Boys vogliono provare a rivincere ma non è semplice l'avvio è complicato a causa della partenza di Rick Mahorn e dopo una serie di sconfitte tutti capiscono che bisogna cambiare qualcosa Mark Aguirre va dal coach e gli comunica che la cosa giusta da fare sarebbe far partire Rodman in quintetto comprende quanto le capacità di The Warman a rimbalzo siano uniche e che non può essere lui a reprimere quel talento che sta sbocciando hanno bisogno di riaccendersi hanno bisogno di Dennis il problema è convincerlo perché lui è abituato a fare il sesto uomo e ha paura di scontentare qualcuno in partita arriva a chiedere a Daly se preferisce che giochi e marca al suo posto in certe situazioni non è ancora consapevole della sua identità della sua forza accetta il nuovo ruolo solamente dopo che tutti i compagni hanno dato il benestare ecco il cambiamento che serviva i Pistons vincono 25 partite su 26 posizionandosi al primo posto ad est Rodman che aveva già conquistato i tifosi gli anni passati diventa una star ancora più amata le sue capacità difensive a rimbalzo non hanno uguali nella Lega grazie alle sue prestazioni infatti viene convocato all'All-Star Game ed in più vince il premio come miglior difensore dell'anno alla consegna del trofeo afferma ho voluto questo riconoscimento così tanto è un sogno che diventa realtà mentre lo dice scoppia a piangere è un momento catartico perché viene validato che è uno dei migliori giocatori dell'NBA dopo non essere stato nessuno per tutta la vita ha trovato la sua strada le domande che probabilmente si è posto su chi lui sia davvero stanno sparendo sembra liberarsi di tutti i pesi che si è portato dietro fino a quel momento ciò che ha vissuto è incredibile continua a piangere tanto che il general manager deve intervenire Denise è veramente amato da tutti è vulnerabile e sente di non meritarsi del tutto quel successo i Pistons grazie al suo aiuto puntano al back to back l'ostacolo più grande da superare sono i boost di Jordan che sono sempre più forti è una serie sanguinosa in gara 4 nonostante Rodman totalizza i 20 punti e i 20 rimbalzi sono 2 a 2 si va fino a gara 7 che vincono i bad boys grazie anche ad un'ottima prestazione difensiva di The Worm su Pippen già ciaccato fisicamente quella vittoria spiana la strada per l'anello che conquistano dopo aver battuto i Blazers 4 a 1 Dennis in gara 6 è infortunato ma poco importa perché vincono il secondo titolo in due anni hanno riscritto la storia della NBA e l'hanno fatto a modo loro l'hanno fatto grazie ad un gruppo di uomini più riti che mai è proprio quella coesione che ha permesso a quel ragazzino arrivato al Texas di trovare la sua identità quella squadra gli ha fornito la possibilità di entrare nello spogliatoio ed essere chiunque voglia senza essere giudicato Dennis sa di aver trovato una famiglia ha trovato senza neanche saperlo una struttura che lo ha sostenuto e che gli ha dato quella stabilità di cui ha bisogno quello è probabilmente il momento più felice della sua vita i problemi però dopo aver toccato il cielo con un dito arrivano subito dopo Dennis è ingenuo non pensa mai al futuro non sa che i cicli finiscono non sa che quel periodo magico sta per terminare è convinto che quello che ha vissuto fino ad ora sarebbe durato per sempre era sicuro che ci saremmo ritirati tutti da Pistons ricorda il compagno Sully il tempo cambia le cose e l'era dei Bad Boys con lo sweep subito dai Bulls dove The One commette un fallo che passerà la storia finisce con l'uscita di scena più famosa della storia della pallacanestro alcuni giocatori vengono scambiati e Chuck Daly nel 1992 lascia la squadra per Dennis è un colpo durissimo perché perde la sua figura paterna non doveva andarsene perdere una partita di basket non è importante come perdere una persona che ami non vedo come io possa rimanere qui a giocare non mi sentirei a casa dichiara la stampa non si rende conto che si tratta di un business si sente abbandonato, tradito quella famiglia per lui era la cosa più importante di tutte nonostante fuori dal campo ne abbia un'altra già perché nel 1987 ha iniziato a frequentare Annie Bakes e ha dato alla luce la figlia Alexis l'anno successivo lui però non sa cosa significa essere padre ed infatti non è presente non aiuta la bimba a crescere è concentrato sul basket c'è una parte di lui che non si è ancora rivelata completamente il suo vero io non quello che fa le cose solo per piacere alle altre persone è un momento complicatissimo per Dennis perché la sua squadra la struttura che gli dava tutte le certezze si sta sgretolando la compagna con la quale si sposa e divorzia dopo solo 82 giorni porta via la figlia e si trasferisce lui rimane solo anche la palla canestro perde importanza nonostante un'ultima stagione con la vittoria della classifica rimbalzi con 18.7 di media numero incredibile inizia a comportarsi in modo assurdo spesso non si presenta agli allenamenti e salta diverse partite per infortuni ed espulsioni diventa un problema per il team so che sarebbe stata dura che non avrebbe ritrovato quell'amore incondizionato che gli ha dato quella squadra spiega Isea anche i tifosi che tanto lo amavano poco tempo prima iniziano a non sopportare i suoi atteggiamenti chi lo frequenta capisce che c'è qualcosa che non va qualcuno teme possa arrivare addirittura a farsi del male ed eccoci tornare lì da dove siamo partiti da quell'11 febbraio 1993 nel parcheggio davanti al palace c'è proprio Dennis all'interno della sua auto di fianco a lui ha un fucile lo prende in mano intanto fissa il palazzetto pensa nuovamente che non sa che fare della sua vita che a questo punto non gli importa più di nulla si punta l'arma sotto al mento ecco questo è il momento che segnerà la sua esistenza può essere la fine di tutto o il punto di partenza per un nuovo inizio il punto di partenza per un nuovo inizio il punto di partenza per un nuovo inizio il punto di partenza per un nuovo inizio